16 mesi dall'Olimpiade di Rio de Janeiro, ripensando a quel giorno, qual è l'immagine che ti è rimasta impressa? L'ultimo piattello, la premiazione? Beh sì, sicuramente vincere l'Olimpiade alla prima partecipazione olimpica, questo non lo scordiamo, è un'emozione indescrivibile. Io ho in mente tutto, ricordo perfettamente tutto, dal primo all'ultimo piattello, è veramente un'emozione unica, ogni volta che guardo la medaglia dico sì ce l'ho fatta, è mia, adesso non me la toglie più nessuno. Il giorno dopo, quando ti sei svegliata, hai realizzato, hai guardato la medaglia, avevi già capito il giorno prima la grandezza o non l'hai ancora capito neanche il giorno dopo, hai avuto bisogno di più tempo? L'ho capito all'inizio di quest'anno, nella presentazione della prima finale in Coppa del Mondo, ero riuscita a entrare nelle prime sei, nella mia presentazione ho detto la campionessa olimpica in carica, e allora lì mi sono resa conto, guardavo questa medaglia e non credevo che ce l'avessi fatta perché è talmente un percorso lungo, pieno di insidie, pieno di vittorie e piena di sconfitte, quindi riuscire ad avere questa medaglia tra le mani subito alla prima partecipazione olimpica è un sogno che si avvera e quando si avvera un sogno ti viene spontaneo e dirti ma è successo davvero? Una volta arrivata in finale, in quei pochi minuti che passano dalla finale a sei a poi la finale per loro, che cosa hai pensato e hai parlato con Chiara? Sì certo, abbiamo parlato con Chiara, siamo amiche, al di fuori anche del campo da tiro, ci sentiamo regolarmente tutti i giorni, c'è sempre stato un grandissimo rispetto reciproco, ci siamo sempre detto fuori dalla pedana amiche, dentro non ci si conosce. Quei pochi frangenti che c'è stato tra la semifinale e la finale, ci siamo prese da una parte, ci siamo dette qualunque cosa succede, tra di noi non cambierà niente. Dopo la finale avete parlato, subito dopo, che ti ha detto Chiara? Abbiamo pianto, abbiamo pianto tanto, 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 non ci rendevamo conto di quello che avevamo fatto, cioè siamo entrate nella storia e la sera che noi si dormiva anche in camera insieme in villaggio e le medaglie stavano sopra il comodino, le guardavamo incredule di quello che avevamo fatto. È stato veramente bello finire questo percorso con lei e ora lo stiamo iniziando un altro, verso Tokyo. Che cosa abbiamo in più rispetto agli stranieri? Sicuramente abbiamo del talento naturale, noi veniamo da stirpi di cacciatori, di tiratori, nella mia famiglia ci sono tiratori e cacciatori, fin dai miei nonni, abbiamo un grande team. Per esempio, secondo me il successo anche di Rio è stato che abbiamo avuto dietro di noi una federazione che ci ha aiutato moltissimo, a partire anche dai tecnici, che sono importanti e fondamentali. È importante instaurare un rapporto con il proprio direttore tecnico. Dal punto di vista sportivo, dopo la medaglia d'oro olimpica, cosa è cambiato? Affronti le gare in modo differente? È sempre uguale? Hai più pressione? Hai meno pressione? Quest'anno, sinceramente, ho sentito molto di più la pressione, perché sapevo di essere la campionessa olimpica in carica e volevo dimostrare che mi meritavo quel titolo. E quando finalmente poi mi sono detta, ok Diana, basta, lasciati andare, è andata quella gara, non ci pensare più, e allora lì è cominciato ad arrivare il risultato. L'obiettivo, immagino, del quadriennio è Tokyo, ma prima di Tokyo? Prima di Tokyo, quest'anno abbiamo il mondiale in Corea ad agosto, dove ci saranno le prime carte olimpiche, i primi passi olimpici, e quindi l'obiettivo è ad agosto, riuscire a entrare nelle prime tre del mondiale per prendere i primi passi. Se pensi a Tokyo, a che pensi? A un'altra medaglia.